e ciao a tutti sono Sierakais e bentornati a un nuovo video di R&D 2 Italia in questo video vi mostrerò come catturare il cavallo arabo veloce presente nel gioco il cavallo più veloce e secondo me più comodo degli altri anche forse anche più bello dipende i gusti allora prima di iniziare vi ricordo di entrare nel canale Telegram di R&D 2 Italia che vedete nello screen sopra in alto trovate tutti i link per entrare è un gruppo dedicato per giocare e chiedere aiuto informazioni nell'online nella storia trovate tutto in descrizione canale Telegram più entrate è meglio ci si diverte più il gruppo è aperto a tutti e mi raccomando entrate anche nella pagina facebook di R&D 2 Italia c'è un gruppo facebook non so quanti sono non mi ricordo ma un gruppo numeroso entrate anche lì trovate in descrizione il link sopra lo screen allora iniziamo col video mi raccomando aiutatemi a far crescere questo video condividetelo con tutti se vi è stato utile lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti attivate la campanella trovate i miei social in descrizione canale Telegram personale di R&D 2 pagina facebook i miei instagram tutto lì in descrizione mi raccomando condividete mi piace al video allora adesso si inizia davvero col video allora per trovare il cavallo arabo veloce bisognerà andare in questa parte della mappa vicino a ambarino e eccolo che è spawnato mi raccomando se non lo trovate più tentativo riprovateci comunque lo troverete più che altro è catturato io ho fatto un po fatica perché sono un po nabo dovevo capire come funzionava i meccanismi innanzitutto bisogna calmare il cavallo quando si avvicina così lentamente bisogna continuare a premere quadrato per fare calma 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 il cavallo vi comparirà il cavallo vi comparirà il cavallo vi comparirà in basso a destra vedete che lui si stabilizza più o meno poi da qui trovare a a calmarlo ancora di più ecco questo non ha funzionato e adesso proviamo a riprenderlo visto che il bastardello si sta allontanando è che lo stronzo si è anche allontanato troppo bisogna anche cercare di avvicinarsi piano piano che se ci vede in piedi ovviamente ti spaventa e scappa ok ok sono riuscito a saltare in croppa l'ideale adesso è riuscire a domarlo e ci riuscirò no 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 grandissimo vedi come corre quel merda qui ho velocizzato le immagini sennò non arrivavo più al cavallo ok dai che questa è la volta buona calmo cavallo goloso calmo ok dai che ce la facciamo dai dai che ce la facciamo ok e bisogna prenderci un attimo la mano perché non è semplice cioè non è difficile però per i tentativi è più qua buono cavallo buono e se non ricordo male si otterrà anche un livello 1 col cavallo riuscendo ad ammaestrarlo il legame ok quindi adesso il cavallo è mio basterà solo calmarlo ancora un attimo se volete tagliare la sella portando indietro il cavallo vecchio che avevate così dalla stalla così potreste potete installarlo e tenerlo come cavallo di scorta il video termina qui grazie per visto questo video vi ricordo di lasciare un bel like condividete il video per farlo crescere vedere anche i vostri amici su tutti i social trovate il canale telegram di iscrizione per rientrare conoscere gente giocare insieme per l'online per la storia perché delle informazioni la pagina facebook di reddation 2 italia gruppo anche a questo dedicato reddation 2 tutto in descrizione trovate i miei social condividete il video lasciate un bel vi spiace iscriviti al canale e attivate la campanella ciao a tutti da sierra kaiser grazie 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 grazie